Is everyone so mad with me today? Why today looks so sad? Mimmo! Mimmo! Aoe! Obele! Da quanto tempo! Aoe! Ma, oi! Dove te ne vai con questo grosso valigione? Eh! Dove va? Dove va? Mia moglie mi ha cacciato di casa! Aspetta, non ho capito bene. Mia moglie mi ha cacciato di casa! Mi ha cacciato! E tu già sapevo che... Ma... I-ya! Sparesci! Ma moglie ti ha cacciato di casa? Si! Se mia moglie mi avesse fatto questo affronto, io la prendevo e la tagliavo a pezzi! Eh! E perché nella valigia che cosa sta? Eh? C'è un po' di profumo suo con la cazzo maniscia! E questo è un po' di... 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 Grazie.